Mentre dalla Montecatini è partita la campagna per la diffusione della raccolta differenziata, il Comune ha pubblicato il report relativo alle spese sostenute dall'ente per il conferimento in discarica, fattura del mese di ottobre, per nolo autocompattatori, per la mitigazione ambientale da corrispondere al Comune di Siculiana e per il servizio di igiene urbana. La spesa complessiva è di quasi 430.000 euro, diverse come detto alle voci di pagamento sostenute tra il 7 e il 10 dicembre. La prima frattura, di 5.368 euro, è stata saldata alla Catanzaro Costruzioni per ribaltamento costi per rifiuti non conformi e relativa penale conferiti dal 1 al 30 settembre. La seconda voce, che è possibile consultare sul sito istituzionale dell'ente, riguarda invece la liquidazione della somma di 280.388 euro, pari al 75% dell'importo complessivo di 373.000 euro alla dedo all'ambiente per il servizio di igiene urbana. E' quindi il turno del pagamento del conferimento in discarica del mese di ottobre, la liquidazione in favore della Catanzaro Costruzioni, in questo caso è di 110.340 euro. Si arriva quindi alla voce maggiori costi per nolo autocompattatori relativi al mese di agosto 2015, di 18.266 euro versati alla dedo all'ambiente. C'è quindi la posta relativa agli oneri di mitigazione ambientale da corrispondere alla comune di Siculiana per un importo complessivo di 13.179 euro. Singole fatture che, accumulate, portano il monte a quasi 430.000 euro per spese connesse alla gestione e allo smaltimento degli inerti raccolti dagli operai del cantiere a dedalo di Licata. Le somme per far fronte ai vari pagamenti vengono prelevate dal bilancio comunale, andando ad incidere sul costo del servizio per il cui abbassamento si sta iniziando a parlare di raccolta differenziata.